In questa vasca vediamo dei Albino Pigeon, quindi corpo chiaro, bianco, madreperlato, vedete com'è bello bianco, gli ho somministrato del granulato neutro, senza presenza di coloranti o asa extantina, proprio per non contaminarli di rosso, quindi va somministrato un granulato neutro e rimangono di un bel colore bianco madreperla, vedete, occhio e pupilla rosa, iride e pupilla rossa, molto belli, diventeranno di un bianco candido, varietà Pigeon, questi qua sono sempre by SG Discus, ricordo ancora una volta di prenotare per le consegne di luglio per il Sud Italia, Puglia, Calabria, Sicilia, saremo in consegna uno dei sabati di luglio. Ok. Ciao a tutti.